Deathmatch a squadre Fuori dai piedi, ho da fare Starò di vedetta, ma occhio al fuoco amico Black Ops, ingaggio autorizzato Ucciso Neutralizzato Interpreto al carbo a carbo Centro confermato Non da terra Peccato in pieno Un assassino fuori Si Bestra ammazzato Sì Addio Ripper ha sete di sangue Hc xd nemico nell'area Ripper ha sete di sangue Sì Ripper 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 UAB alleato in arrivo. VIVI SEZIONATI. MORTO. UCCISO. SERAF INQUIDATA. Colpo fulminante in attesa di coordinate. E per disponibile. Colpo fulminante. UCCISIONE DOPPIA. Ottimo. Envil 1-1. Continuate così. Ce la faremo. UCCISIONE DOPPIA. UCCISIONE DOPPIA. UCCISIONE DOPPIA. UCCISIONE DOPPIA. UCCISIONE DOPPIA. UCCISIONE DOPPIA. Obiettivi raggiunti. Pronti a evacuare. UCCISIONE DOPPIA. 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 Grazie.